Il Brindisi si prepara a tornare in campo domenica pomeriggio alle ore 14.30 presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi contro il Francavilla in Sinni. Una gara sicuramente impegnativa per la formazione biancazzura che è chiamata però a dare continuità dopo il primo successo rimediato tra le mura amiche e che ha inaugurato il nuovo anno con la chiusura del girone d'andata, tre punti fondamentali in ottica salvezza conquistati domenica scorsa contro il Matino. Per mister Di Costanzo non ci saranno grandi stravolgimenti nell'undici che affronterà la formazione lucana in questa sfida comunque proibitiva per la formazione biancazzura che deve comunque provare a muovere la classifica in vista di una settimana particolarmente intensa. Dopo il match col Francavilla in Sinni infatti i Brindisini andranno mercoledì in trasferta sul campo del Bitonto per cui chiudere la settimana nuovamente al Fanuzzi nella prima di altre due gare interne consecutive contro la Nocerina successivamente contro il Sorrento. Per i Brindisini ovviamente cercare di portare punti in queste due sfide d'alta classifica può sicuramente dare morale oltre che muovere ulteriormente la classifica che adesso vede la zona play-out vicina a solo due punti dopo la sconfitta nel recupero del San Giorgio sul campo del Cerignola. Come detto mister Di Costanzo non stravolgerà l'undici titolare nonostante un'assenza forzata ci sarà quella sull'auto di sinistra di Falivene fermato da una giornata disqualifica dal giudice sportivo dopo l'ammunizione rimediata contro il Matino. Il Brindisi però comunque attende anche l'arrivo dei nuovi arrivi che difficilmente saranno già disponibili in questa sfida interna di domenica col Francavilla in Sinni.